io c'ho sempre benzina e dopo come dovete appizzarla scusami se l'hai legata troppo stretta non è indietro più e allora si a calata cassa che fa scusami e masticala mandala avanti tutta di zapparla qua via il dito che non vedo scioglila con l'accendino così non taglia questa cosa perché è molle come il tuo esatto è così tagliato è andata qua in mezzo insieme a cosa delle salviette dei pannolini ho riconosciuto dietro c'è l'apertura come la figa esatto a posto? andiamo di qua andiamo ai tre baselli facciamo tutto il percorso sopra in alto dopo torniamo indietro dalla strada dopo torniamo indietro dalla strada cascina volca, anello del toni scendiamo qua lo vuol fare il giraventura e lo dobbiamo tagliare via perché sennò sennò